Via! E comincia così! Pronto, vivo? Via, 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 via! Via, 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 cante! Pronto! 10 Vai, Beppe! Accel! 15 Ceguiamo un applauso! 20 25 Via! Sbagliare! Sbagliare! 30 Vai! C'è la delge! Vai! Che buona! Vai! Allora! 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 48 Signori! 48 secondi Il tempo a disposizione era di 50 La squadra Quella dei Rosen Garden Di Bergamo Per cui si meritano Un applauso Per questa Bellissima Dimostrazione Di forza Di coraggio E soprattutto E soprattutto Di allenamento Di perseveranza Perché senza Quella Non potrebbero Dimostrazione